Ma la matematica non è un'opinione. Totale tamponi 2.529.005. In totale siamo forse a 47.000 tamponi. 30.000. Scusate. 3.600 contagiati con 47.000 tamponi. Giusto? No. Ciò vuol dire che 47.000 è più che 20 volte da moltiplicare. Giusto? 2.000 su 47.000 sono almeno 23 volte. Vuol dire che 412 dobbiamo moltiplicare per 23. Giusto? 4 per 2 è 8. 4 per 3 è 12. che 412 sta a 2.170 tamponi come X sta a 47.000 tamponi. Prendete la quota di numero che vi danno la dividete per 60.000.000 di habitanti la moltiplicate per 4.900.000 e vedrete che abbiamo fornito in cifra che è metà di 44.000. Esce fuori il numero che ha pensato. E' una quotienta a posto. C'è proprio di tamponi a posto. Ma ricordate quei giochi... E' il governatore più votato d'Italia. Ma di cosa parlava? Cosa parlava? Non lo so.